In una croce c'è la salvezza di tanti. Presentata al Centro Servizi per il Volontariato di Teramo, la campagna di comunicazione sociale realizzata dai volontari teramani per invitare i cittadini a diventare volontari del soccorso. L'evento, promosso dal CSV in collaborazione con il Comune di Teramo e il COGE, Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Abruzzo, ha visto alternarsi davanti ad una follata platea le testimonianze delle nove associazioni partecipanti al progetto. Per me il volontariato significa far del bene agli altri. Non è una cosa per mettersi in mostra, ma nelle piccole cose basta anche un sorriso di una persona, soprattutto le persone anziane, che noi andiamo a soccorrere, bisognose, che uno vede che sono da sole, eccetera. A noi ci basta un sorriso, un grazie per essere gratificata. È iniziato a giocare, è iniziato a 15-18 anni, è iniziato per il gioco, però dopo mi sono fatto una domanda, cioè è il modo in cui do il mio tempo libero, quello che posso dare, dare una mano a chi ne ha veramente bisogno. Ai momenti formativi hanno partecipato il giornalista Nicola Catenaro, Gabriele Di Donato, copywriter e consulente creativo, affiancato in una delle giornate formative dai registi Stefano Saverioni e Cristiano Donzelli e il fotografo Armando Di Antonio. Questa è la seconda edizione, continueremo probabilmente con tutti i settori, quindi mano a mano cercheremo di aiutare tutta l'associazione a venire fuori con quello che può essere uno slogan che dia in qualche modo un messaggio alla cittadinanza per stimolare qualche cosa che può essere utile a loro e a tutti. Per me il volontariato è una cosa che si sente dentro, purtroppo io sono 22 anni che lo faccio e continuerò a farlo. In una croce c'è la salvezza di tanti, recita lo slogan della campagna di comunicazione che rappresenta i volontari mentre fissano sorridenti l'obiettivo in una posa a forma di croce, simbolo internazionale di soccorso associato all'idea della possibilità di salvezza per le vite umane, ferite o in pericolo. La croce è il nostro simbolo, salvare vite è la nostra missione, questo è il volontariato a Teramo.